Presentarsi davanti a un'opera di Raffaello non è mai semplice. Quest'opera fu richiesta a Raffaello dal pontefice Leone X, poiché non poteva presenziare al banchetto di nozze di Lorenzo Duca d'Urbino stesso con Maddalena de la Tour du Verde. Quando l'opera è arrivata in laboratorio presentava dei microsollevamenti in scagliette di colore, soprattutto in alcune zone. L'automatica ha permesso veramente l'applicazione di tecniche di indagine, di tecniche di restauro che altrimenti non sarebbe stato così facile poter avere a disposizione. Abbiamo eseguito una riflettografia scanner che ci permette di indagare step by step tutte le fasi di costruzione pittorica dell'opera. La fluorescenza XRF per avere proprio una conoscenza dei pigmenti utilizzati, il rilievo 3D per avere una conoscenza puntuale, quindi dello status quo della superficie dell'opera nel suo tempo vita. Noi grazie anche alle tecniche di oggi abbiamo potuto avere un approccio molto più scientifico al restauro di questa opera, molto meno dettato da un aspetto quasi romantico. Quest'opera arriverà poi a fine del restauro ad essere presentata alla mostra delle scuderie del Quirinale per il cinquecentenario della morte di Raffaello. Grazie. Grazie. Grazie.